Cosenza salva con un piede, manca ancora l'altro. Questo il simpatico commento a fine gara con il Messina del tecnico dei Rossoblu Roselli dopo l'ennesimo risultato che allunga la striscia positiva dei Lupi. I Rossoblu hanno fallito ad inizio gara anche la grande chance di un calcio di rigore che Elio Calderini si è fatto intercettare da Berardi. Grande fatica da parte dei siciliani per mettere in difficoltà il Cosenza che ha gestito bene l'incontro. I Rossoblu sorridono e si portano a più dieci sulla quintultima missione salvezza quasi compiuta anche se rimane un po' di rabbia per il rigore non sfruttato. Il commento di mister Roselli. Il rigore è un episodio come altri. Il rigore si può fare, si può sbagliare. Io penso che sono molto contento sinceramente perché era una partita difficile per noi dal punto di vista anche motivazionale. Noi non siamo salvi ma è normale che veniamo da un periodo talmente buono che qualche giocatore poteva rendere meno. Invece tutti hanno reso per quello che possono e un punto a Messina in questo momento è guadagnato. Pratica salvezza definitivamente archiviata perché già con i cinque risultati precedenti a questo avevate messo un bel mattoncino. Archiviata no, diciamo che in piede è sicuramente fuori ma nel calcio sinceramente io ci sono da tanti anni dunque ho visto tante cose, se molli un attimo poi non riprendi più veramente. Noi oltretutto abbiamo anche la finale di Coppa Italia che sarebbe un delitto non provarci dunque dobbiamo rimanere veramente molto concentrati anche se è vero qui dobbiamo essere molto bravi perché i punti di vantaggio sono abbastanza e dunque qualche ragazzo si potrebbe rilassare e a quel punto sarebbe un problema mio, sarebbe anche colpa mia. Noi oltretutto